Si è spento Michele Santoro, noto in città in diversi ambiti, dallo sport al mondo della fotografia e non solo. Michele Santoro era un cameraman di lungo corso, aveva cominciato a videotrinacria negli anni Ottanta, nella stessa tv diretta dalla sorella Rossana, storica speaker del telegiornale e del cognato Osvaldo Lograsso, che lo vollero tra i collaboratori più fidati di quell'emittente. Michele Santoro era una persona solare, straordinariamente semplice, era amico di tutti e non è una frase fatta. Su Facebook sono centinaia i commenti degli amici di Michele e non solo, di quanti hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, perché Michele era una persona speciale, era soprattutto un padre e un marito esemplare per Simona, conosciuta giovanissima e con la quale aveva creato una splendida famiglia con quattro figlie. Il suo sorriso era contagioso, la battuta sempre pronta e la grinta dell'eterno ragazzo. Aveva superato da qualche anno la soglia dei 50 anni, non aveva mai perso lo slancio e l'entusiasmo del combattente verace, anche dinanzi a un male che da qualche tempo lo aveva colpito, segnandolo giorno dopo giorno. Michele Santoro fino alla fine ha giocato la sua partita con la tempra del campione. Sì, perché Michele Santoro era anche campione d'Italia, titolo conquistato con gli allievi della PGS Don Bosco Calcio nel 1983. In quella squadra allenata da Antonio Lupo, anche Davide Lapaglia, Valentino e Fabrizio Fama, Ignazio e Giuseppe Riggi, Gabriele Falsone, Sergio Verdone, Michele Di Filippo, Andrea Maira, Liborio Passaro, Massimo Chiarello e altri ragazzi dell'oratorio salesiano Sacro Cuore, dove Michele era di casa. I funerali venerdì alle ore 16 in cattedrale.